La cucina è la mia delizia e questo il luogo della delizia. È l'espressione autentica del gusto italiano, di come intendo la vita e la tavola. Da un insieme di elementi, apparentemente lontani, nasce la delizia per il palato, una morbida delizia. Una dolce pausa creativa, a modo mio, ispirata da un bucchio delizioso di aromi e luoghi esotici. Mentre sorseggi il tuo espresso italiano, dolce e ricco di aromi, il profumo di frutta essiccata ai fiori ti porta alla mente luoghi già visti o solo immaginati. Luoghi di delizie dal dolce retrogusto e note aromatiche leggermente liquorose, come l'autentico e morbido espresso italiano, deliziosamente a modo mio. Grazie per la visione!